Buongiorno, ben trovati a una nuova edizione del Tg33. In apertura alla politica si infittiscono le ipotesi sulla discesa in campo del Premier Mario Monti, il Capo del Governo infatti, verrebbe ancora in una fase di riflessione, assolutamente incerte di conseguenza le eventuali modalità di un suo intervento in campagna elettorale. Occorreranno sempre più persone preparate, serie, capaci di leggere il cambiamento e di saperlo guidare. Aveva dichiarato ieri, aggiungendo a margine del Consiglio dei Ministri, che in Italia ci sono resistenze e contrarietà in merito alla sua discesa in campo. Al contrario, ha detto il Premier, all'estero persino Holland, che è socialista, mi ha chiesto continuità. E sempre ieri l'incontro con il leader del PD, Pierluigi Bersani, non sembra essere stato privo di tensioni. È inaccettabile che Monti continui a sfogliare la margherita due mesi dal voto, avrebbe detto all'uscita il candidato Premier del Partito Democratico. Ci deve essere chiarezza nelle proposte politiche in vista delle elezioni. Stando a quanto dichiarato, il PD riterrebbe la figura di Monti necessaria per l'Europa e vorrebbe quindi coinvolgerlo anche in un governo a trazione centro-sinistra, mantonendone però la posizione di terza età. Venerdì intanto ci sarà l'ultimo Consiglio dei Ministri al termine del quale il Premier Monti salirà al Quirinale per dimettersi e solo dopo forse renderà note le sue intenzioni. La discussione della legge di stabilità e del bilancio è rinviata alla seduta pomeridiana che inizierà alle 18. L'ha annunciato in aula al Senato la Presidente di turno, Rosi Mauro, in apertura di seduta. Intanto sono già ripresi i lavori della Commissione bilancio, dato che la riunione notturna non ha portato ad alcuna decisione definitiva. Diversi nodi da risolvere, dal patto di stabilità interno alla riduzione dei tagli per i comuni. Mentre il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha sottolineato o si riducono i tagli ai comuni almeno di 500 milioni di euro o tutti noi noi sindaci saremo costretti a dimetterci in massa. Intanto sono aumentate a 1,250 miliardi le risorse per comuni e province previste nella legge. Ha approvato il congiornamento della riforma delle province, il congiornamento delle elezioni per un anno, il riallineamento della riorganizzazione delle prefetture, l'emendamento che prevede la cosiddetta busta paga pesante per i lavoratori delle zone colpite dalla sisma in Emilia. Resta invece ancora da votare l'emendamento con il mille proroghe. Ora cambiamo argomento, andiamo a Palermo. Crollo di due palazzine questa notte nella zona dei cantieri navali. sarebbero due morti, una donna dispersa e una decina, i feriti, tra i quali una bambina di 8 anni con escoriazioni lievi. Stando a quanto riportato, da mesi si sentivano rumori e si vedevano diverse fessure nei palazzi. Questa notte la chiamata ai vigili del fuoco, immediato all'ordine di evacuazione per gli abitanti, ma non tutti ce l'hanno fatta ad uscire in tempo dagli edifici. Nei due palazzi abitavano 8 famiglie e da tempo, dopo la costruzione di una struttura prefabbricata all'ultimo piano di uno dei due immobili, si sentivano strani screcchiolii. Oggi i rumori ci hanno fatto preoccupare più del solito. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco che ci hanno fatto immediatamente sgomberare, racconta uno dei superstiti. Qualche minuto dopo è venuto giù tutto. Il palazzo si è sbriciolato e ha trascinato con sé anche quello vicino. Sanità. Sono 940. I posti letto previsti dal piano per ridefinire la rete ospedaliera del Lazio. 39 riguarderebbero il Pertini, 50 l'Umberto I, altri 50 il San Giovanni e 72 il Santo Spirito. Alla San Filippo Neri vengono chiusi i reparti di cardiochirurgia, neochirurgia, terapia intensiva neonatale, chirurgia toracica, maxillo facciale, geriatria per un totale di 120 posti letto. Il CTO verrà riconvertito in una struttura territoriale e riabilitativa. Serviranno altri 10 giorni per mettere a punto gli ultimi dettagli. Poi il commissario per la sanità del Lazio, Enrico Bondi, potrà ultimare la partita. È un piano che presenta buone prospettive di raggiungimento del pareggio di bilancio fra il 2014 e il 2015, ha dichiarato Bondi, che prevede la riqualificazione e riconversione dei posti letto ordinari in posti territoriali di residenzialità già a partire dal 2013. Ci saranno circa 2.500 posti destinati a dare risposta a persone non autosufficienti, anziani, affette da disabilità, a pazienti terminali e anche oncologici. Altri 3.500 posti sono programmati entro il 2015. Torniamo sul caso Ilva, la protesta degli autotrasportatori. Decine di tir hanno attraversato le strade che dal centro siderurgico conducono alla stazione. Su ogni mezzo in evidenza c'era scritto autotrasportatori indotto Ilva, anche noi amiamo i nostri figli, vogliamo la salute, vogliamo il lavoro. Sì, al decreto salvatanto. Non stiamo più lavorando da un mese, dichiarano i camionisti che trasportano lamiere, ma la fermata degli impianti dell'area a freddo, prima per la crisi del mercato, poi per il sequestro dei prodotti finiti e dei semi lavorati, confermato dal GIP, rischia di far saltare questa attività dell'indotto Ilva. Noi siamo convinti che salute e lavoro si possano e si debbano tenere insieme, ha dichiarato Vladimir Pulpo, portavoce dei trasportatori. Quindi diciamo sì al risanamento ambientale dell'Ilva, ma vogliamo anche che la fabbrica non si fermi. Dalla chiusura, conclude Pulpo, deriverebbe un impoverimento generale, non solo di chi lavora nell'Ilva, o con l'Ilva. E ora la pagina degli esteri, che apriamo con il caso Marò, l'alta corte del Kerala in India, ha rinviato domani la decisione sulla licenza di Natale per i due Marò italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, detenuti da dieci mesi, infatti avevano chiesto due settimane di permesso per trascorrere la festività natalizie in Italia. La decisione doveva giungere oggi, ma il giudice ha disposto l'aggiornamento dopo aver ascoltato le ragioni dell'Avvocato e dello Stato di Kerala. E ora in Siria, sono di nazionalità russa le altre due persone rapite ieri, insieme all'ingegnere catanese Mario Belluomo, l'ha confermato il portavoce dell'Ambasciata russa nel paese, Sergei Markov, e il ministro degli esteri di Mosca ha rivelato che è stato chiesto un riscatto per la loro liberazione. I trossaggi sono dipendenti dell'industria siderurgica di Mshio, l'ingegnere italiano originario di Catania ed è stato rapito nell'area di Tartus, cista costiera a nord di Damasco. E ora prima di chiudere un'occhiata alle borse, mattinata positiva per le principali borse europee, Milano ha guadagnato lo 0,6%, Londra lo 0,33%, Parigi lo 0,42% e Francoforte lo 0,54%, infine Madrid lo 0,7%. Cala invece lo spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi si trova a quota 314 punti, mentre la borsa di Tokyo ha segnato un rialzo dello 0,96% e Seoul dello 0,51%. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata, arrivederci.